Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico l'IP2L200, ci ritroviamo qui oggi ancora su Bayon God and Evil L'ultima volta c'eravamo interrotte che praticamente c'era un mega bug, dopo svariati, 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 lo ho già detto svariati, tentativi Siamo riusciti a passare il bug, tutto il resto era una bolliatina perchè sia tipo una cagatina che accadeva Abbiamo un peso pass quadrato, vi ricordate che proprio all'inizio quando arrivavamo nella nutripillola c'era questa porta quadrata Con il pass l'abbiamo aperta Abbiamo fatto l'ultimo fotosservizio che ci serviva e che faceva vedere le squadre alfa senza ammetti che erano controllate praticamente dai DOMS E adesso stiamo ripercorrendo la cosa all'indietro per ritornare alla nostra banchina di scarico E così possiamo scappare dall'antripillola e portare il servizio fotografico alla... Certo che cacchio, siamo una povera donna No, tu non ho visto niente Ma ero feo Meno male che ho salvato, grazie a Dio ho salvato Sì Sì Muori così E muorici Anche male ti dico Eccolo Dai, dai costa meglio Gatti non cominciate Obiettive mappe posta T5 F4 Proviamoci, è T5 F4 Allora T5 F4 T5 F4 M***e a fuimo M***e ragazzi, io vi chiedo scusa se non sono riuscito a farvi vedere tutto ma... Non vi siete persi, granché se mi volete vedere un cazzato su tutte le furie ragazzi, era un'occasione eccellente non mi ricordo cosa devo fare ma perché mi ricordo che qua accadeva qualcosa di brutto ma di brutto brutto vedete che le guardie praticamente sono corrotte che brutta morte è partita per la luna ma che c'è se vabbè poi mi ricordavo qualcosa di brutto da piccolino ma non così tanto brutto ma io sono una povera donna in questo gioco sono una povera ragazza avrà al massimo vent'anni questa tipa qua come cacchio farà affrontare tutte ste cose qua una povera donna una povera ragazza più che donna nooo caro sonne in peters ah finalmente ah finalmente ok vediamo se così funziona in idea si funziona ah che botta ma no ma muore ci malissimo io non lo stiamo facendo neanche muovere eh sua eccellenza di cosa che sta già morendo la sua eccellenza eccellenza di miei grandissimi stifali che sta già morendo fai schifo cioè tutto figo lui terminato trasforma già morto ma datti all'ipica vuoi conquistare vuoi conquistare mondi e vieni sconfitto da una povera ragazza che ti lancia dei dischi taglienti ma datti all'ipica destinazione del gatto nerone nerone è il mio gatto mencun perché in quadratura l'hanno inquadrata eh ho sbagliato a parlare perché in quadratura l'hanno inquadrata su su fantastico fondo schiena robot doms nella fabbrica non siamo usciti da lì dischi si andiamo usciti ok vita porca trota e salviamo che me lo chiedi mi sento sollevato che sto pensando che sto finendo la fabbrica di nutripillole non lo sopportavo più io sto luogo e pensare che il matatoio sarà ancora più difficile matatoio sarà più difficile perché ho visto cioè perché mi ricordo qualcosa da piccolino mi ricordo che era un casino più totale ma nel vero senso della parola oh gatti si si la prenderemo quella perla lì ma non adesso il resto saremo fuori è già un membro della rete iris forse io non lo so so solo che era importante sembra che la protesta stia tornando a funzionare di nuovo dei nostri quasi se non fosse per il mal di testa mi hanno davvero dato una bella lavanda al cervello oh ingresso fabbricare lui ragazzi non vedo l'ordine però mi ricordo qualcosa di spiacevole oltre sti stronzi qua che va bene sono abbastanza va bene tu c'è quel mega martellozzo lì mazzo mazzo ecco la bottiglia di una capucciata proprio C'è il mio dio C'è il mio dio C'è il mio dio C'è il mio dio Sono ridotto male Miss J Una scatola di kebab Una capsula turbo triplica temporaneamente Una capsula turbo Una capsula turbo triplica temporaneamente La velocità massima Ok Ito Ragazzi interrompiamo qua Ci vediamo la prossima volta Ciao